Salve a tutti! Col breve videino di oggi voglio parlarvi del problema del giudizio e di come affrontarlo. Noi di solito ci accorgiamo di essere vittime del giudizio altrui, cioè noi ci sentiamo giudicati per le nostre azioni o che stiamo facendo o che vorremmo fare e veniamo frenati nel nostro andare, dritti alla meta, da delle considerazioni di giudizio, cioè abbiamo bisogno, abbiamo paura di essere giudicati dagli altri, oppure noi stessi al nostro interno, cioè diciamo che abbiamo fatto nostro quest'idea, ci giudichiamo come non all'altezza, come non in grado. Ora indipendentemente dagli aspetti astrologici che determinano questa modalità di agire, questo sentire dentro di noi, la ricetta è abbastanza sempre la stessa, cioè dobbiamo assolutamente renderci conto, e qui io forse vi stupirò per quelli che non sono avvezze a questo tipo di discorsi, dobbiamo accorgerci che noi nella nostra vita giudichiamo pesantemente gli altri, perché altrimenti noi non soffriremo del giudizio. Come dice la celebre frase evangelica non giudicare per non essere giudicato, questa non è la minaccia di una punizione come molti ritengono, ma la spiegazione di quello che succede in realtà e che succede sempre, per forza succede così. E questo succede perché noi non lasciamo liberi gli altri di essere come vogliono essere, limitandoci semplicemente ad allontanarci se ci danno fastidio o a dirgli guarda mi stai dando fastidio, io me ne vado, a queste condizioni me ne vado. Noi non ci accontentiamo di far questo e diamo un giudizio sull'intero comportamento della persona, come se a prescindere da ogni altra considerazione fosse un comportamento sbagliato. Ora dobbiamo tener presente che nelle varie nostre tappe evolutive noi cerchiamo sempre di far meglio della volta precedente o di un'altra volta in cui noi siamo arrivati qua. Quindi praticamente noi non siamo in grado di vedere se la persona che abbiamo di fronte ha già fatto un passo avanti rispetto a quello che avrebbe fatto in altre vite. Chiaro che sta facendo quello e noi abbiamo tutto il diritto di preservarci se quello che sta facendo non ci piace. Ma il giudizio che diamo sull'altra persona influirà non tanto sull'altra persona come noi ci aspetteremmo, ma su di noi, perché così come abbiamo guardato e giudicato l'altra persona noi poi giudicheremo noi con la stessa lente di ingrandimento, con la stessa scarsa compassione, con la scarsa capacità di accettazione che abbiamo avuto nei suoi confronti, beh tutte queste cose le avremo verso di noi. Per cui ecco che improvvisamente poi noi ci ritroviamo schiavi del nostro stesso giudizio. Quindi è importante capire che per risolvere il problema del sentirci giudicati dagli altri o del sentire che noi stessi ci stiamo troppo giudicando, dobbiamo allenarci a vedere nella nostra vita quotidiana quante volte noi ci troviamo a giudicare gli altri. Ora non dobbiamo naturalmente giudicarci male perché noi giudichiamo, perché se no cadiamo in un tranellone. Dobbiamo semplicemente osservare che è successo e che è stato un comportamento meccanico dettato, come dico sempre, da quelle famose tracce già incise sul nostro cd. Quindi lasciamo che esca questo giudizio e poi immediatamente ripigliamoci e con un atto preciso della nostra volontà lasciamo libero l'altro di essere, proprio pronunciando dentro di noi delle frasi molto semplici del tipo, vabbè ma se a lui piace, se a lui fa piacere, fa bene a farlo. Cioè lasciamolo libero di avere i suoi comportamenti, indipendentemente quindi dal fatto che noi ci vogliamo cautelare da questi suoi comportamenti. Possiamo benissimo prendere e andarcene o dirgli quello che gli va detto, ma lasciamolo libero perché lui sta sperimentando come stiamo sperimentando noi. Più lasceremo libero lui, più ci sentiremo liberi noi. E questa è una grande, grande scoperta sulla strada della consapevolezza di sé, perché apre delle porte che difficilmente si aprono se non si passa attraverso questa comprensione. Vi saluto e alla prossima!